Per la Calabria e per i calabresi onesti non è un momento felice, non lo è neanche per la politica italiana e per partiti come il PD nel quale cominciano a dannidarsi ladri e ladruncoli. Non lo è neanche per un partito da prefisso telefonico come il nuovo centrodestra che tra le sue fila, stando alla cronaca, annovera parecchia gente cosiddetta per bene. Su quattro gatti quali sono tre sono sotto inchiesta. Al centro della vicenda calabrese c'è lo scandalo sui rimborsi percepiti dai consiglieri regionali della precedente giunta. Oggi sono state eseguite alcune misure cautelari. Arrestati Antonio De Gaetano, Luigi Fedele di Forza Italia e il senatore Giovanni Bilardi del nuovo centrodestra. Fra i 31 indagati ai quali sono stati sequestrati beni per 2 milioni e mezzo di euro c'è finita tutta la giunta regionale della Calabria, quella del governatore Mario Oliverio. Al centro dell'inchiesta le rendicontazioni dei gruppi consigliari tra il 2010 e il 2012. E nei rapporti della Guardia di Finanza si scopre come i consiglieri sperperavano il danaro pubblico. Si facevano rimborsare di tutto e di più, dai caffè al bar ai gratta e vinci, ma c'è anche chi si è pagato la benzina, le cene, i gioielli, i fiori, le tasse, i viaggi, oppure faceva la spesa per la famiglia. Altri, con i soldi dei contribuenti, si compravano telefonini e ricariche per i cellulari, fino ad acquistare un biglietto per assistere ad uno spettacolo di lapdance. A quanto pare i consiglieri calabresi facevano a gara chi spendeva di più alla faccia degli imprenditori che si suicidano e dei lavoratori che a fatica riescono ad arrivare a fine mese. Il mangiamangia era diventata una pratica collettiva, era la vera ragione per stare inutilmente seduti su quelle poltrone e intascare migliaia di euro al mese. Crediamo davvero che la gente sia stufa e nauseata, ma temiamo che su questo vi sia anche una forma di abitudine alla corruzione. Crediamo pure che la malavita e le organizzazioni mafiose riescano ad attecchire, sapendo di avere a che fare con gentaglia che andrebbe rinchiusa dietro alle sbarre, per poi gettare anche la chiave.